Dici a me uomo di colore, io almeno sono sempre nero, no? Dov'è mia figlia, mia moglie, non li vedo. Ok. Allora, partiamo. Ciao a tutti. Ci siete? Vi insegno un piccolo canto tradizionale semegalese. Deve soltanto rispondere Zoom, tutti quanti. Zoom. Quando dico na na ye, voi rispondete Zoom. Na na ye, Zoom. Na na ye, Zoom. Adesso lo facciamo battendo le mani, va bene? No, più lento. Na na ye, Zoom. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti